confetti max stress con te nel giorno più bello confettimaxtress.it centinaia e centinaia di provine 32 sono rimasti e inseguono il sogno di avere la loro occasione benvenuti alla prima puntata di dammi un'occasione ed ecco i magnifici cinque che sceglieranno i dieci che continueranno questa avventura Marco Calone, Nancy Coppola, Stefania Lai, Susi Attanazio, Enrico Feniano e poi c'ho il mio amico di sempre Fabio Bressa, Spiga Radiofonico Bentornati e sono in compagnia di un amico che devo dire se non solo il suo nome e cognome Fabio Bressa Buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti Quindi se stai qua non stiamo litigati No ma perché sui social c'è questa cosa che io devo sempre litigare con qualcuno No lo so, sarà Dai partiamo proprio dai social Sì, partiamo dai social che hanno preso nella mia vita un'importanza sempre più grande da un annetto forse a questa parte, in particolare TikTok che mi ha reso popolare, possiamo dirlo a una fetta di pubblico che probabilmente non avrebbe avuto accesso alle mie cose Per cui quando all'inizio mi fu detto da alcuni colleghi Guarda che secondo me ci devo dire, anzi saluto al mio amico Antonio Manganiello che è stato il primo a dirmi Lavora su questa cosa perché funziona bene Mi sono detto Quando il linguaggio della comunicazione cambia Chi come noi, come me tu sei infinitamente più giovane Ma chi come me ha ormai una certa età che fa questo mestiere da 35-36 anni O ti adegui o è meglio che vai in pensione Questo è, voglio dire E allora io invece che in pensione non ci voglio andare ho deciso di adeguarmi E sono molto contento del fatto che attraverso una cosa leggera come un social come TikTok che viene considerato sempre il social che un po' lo è dei disagiati, della volgarità Invece in realtà come tutti gli altri social I social sono quello che tu ci metti dentro Assolutamente Se io faccio il videoblog parlando di cose interessanti e faccio milioni di visualizzazioni probabilmente la gente ha bisogno anche di quello Per cui c'è quello e c'è quello che poi è la democrazia Si sceglie Assolutamente sì Però è pur vero c'è anche il rovesso della medaglia Tu sei uno speaker radiofonico, conduttore televisivo, attore teatrale Io vengo a teatro, mi guardo una cosa, mi sono piaciuti, non mi sono piaciuti Se non mi sono piaciuti al 90% me lo tengo per me Su TikTok o su Instagram la cosa ti viene praticamente, scusate il termine, sputata in faccia Il problema, l'altro grande problema a cui ti riferivi tu dei social è che hanno creato un equivoco di base Il fatto che la propria opinione sia fondamentale per il prossimo Bisognerebbe uscire da questo equivoco Della nostra opinione personale al resto del mondo non importa assolutamente nulla Per cui tante volte per stile, per buon gusto, per buona educazione sarebbe bene tenerla per noi Allora uno dice Ma allora tu vuoi solamente complimenti sotto ai post? No Ci può essere del contraddittorio Elegante Educato In italiano In italiano E' importante, no? Perché se no C'è però, caro Fabio, ecco, mi trasformo un po' nella giornalista di Belve Eh, magari Adoro, adoro quella, adoro per quel programma C'è chi però, voglio dire, starai antipatico anche a qualcuno Ma viva Dio, nemmeno Gesù piaceva a tutti Quindi non è tuo interesse, piacerà a tutti Diciamo anche questa altra cosa Allora, il mio amico Gianni Sinioli, grande maestro di comunicazione, di radio, di televisione Mi ha sempre detto questo Ed ha ragione da vendere E' il, come dire E' la divisione che crea l'hype L'hype sarebbe il gradimento I numeri che si fanno sui social, in televisione Il personaggio ha tanta hype quando è molto seguito E' la divisione che crea l'hype E' il contraddittorio che crea l'hype Se piace a tutti significa che c'è un problema Però la critica non ti arriva al cuore a volte Non ti dà totalmente Ti può dare anche fastidio Si può anche dispiacere di una critica che... Guarda, qualche volta sì Però io ho l'abitudine di cancellare e bloccare Per cui non... Poi me la scordo, po' tre minuti me la scordo Un po' come è anche nella vita di fronte ad un evento triste Cancello e blocco Sì, sì, è una mia abitudine Cancello e blocco Vedi, quindi alla fine siamo qui È sempre... L'importante è essere sempre quei Poerenti, esattamente Detto ciò però, che cosa avviene? Che tu su Radiomarte torni in pianta stabile alle 16 Portando un format che fa molto riferimento a Zocchiacademi Ma perché Gianni Sinioli, che è il direttore di Radiomarte Artistico Mi ha detto proprio questo Mi ha detto quando io, come dire Ero in scadenza di contratto con Kiss Kiss Napoli Ci siamo sentiti E lui mi disse Mi interessa molto il tuo nuovo percorso social Il tuo nuovo linguaggio social Vorrei portarlo nella radio Per fare qualcosa di nuovo E a me questa cosa mi ha molto impressionato Anche perché Gianni mi conosce da che avevo 18 anni Per cui voglio dire Stiamo parlando di una persona che mi ha visto crescere Quindi se lui si è accorto di questa cosa E ha voluto affidarmi questa cosa Significa probabilmente che è vero E mi ha molto galvanizzato Per cui è stato uno dei motivi fondamentali Che mi hanno Per altre cose tu hai anche portato in diretta Un tuo detrattore su Radiomarte Sì in realtà non era proprio un detrattore Ero io Si è spiegato meglio Poi dopo si è spiegato meglio E anzi poi adesso ci seguiamo Che è una storia particolare Ogni tanto gli scrivo e gli chiedo Sì Ogni tanto gli scrivo e gli chiedo Se per cortesia mi fa un duetto Che mi prende un po' in giro Perché sento la mancanza No che va alla fine anche divertente Moltissimo Quando è fatto con buon gusto Moltissimo Radio ore 16 tutti i giorni su Radiomarte Però c'è anche il teatro Sì noi abbiamo debuttato la scorsa settimana Saremo in scena ancora domani sera Sabato e domenica E poi ancora la settimana seguente Al Teatro Bracco di Napoli È l'anno dei ritorni È l'anno dei nuovi inizi Ecco Ok Il nuovo inizio teatrale È il nuovo inizio con il Teatro Bracco Con cui ho lavorato tantissimi anni Con Caterina De Santis Corrado Taranto Una bravissima Taila Orefice Il maestro Torregrossa Rino e Mattia Grillo È uno spettacolo che mette insieme Una serie di cose molto belle Ed è un inno al ritorno al teatro Infatti si intitola Bentornati al teatro O la Locandina Se la facciamo vedere Teatro Bracco Quindi domani Sabato e domenica Siamo ancora in scena domani Sabato e domenica E il prossimo weekend Ancora per due settimane La settimana scossa ne abbiamo fatte quattro Nella Locandina in realtà Hanno messo la foto della mia prima comunione Ho notato Ti devo dire Ho notato Vedi c'è la Uscivo dalla Cresima Quando ho fatto quella fotografia Sarà una fotografia di 30 anni fa Vabbè è vero anche Che è stato preparato tutto molto velocemente Perché è uno spettacolo fuori abbonamento E non era previsto Quindi insomma è stata fatta tutta una roba molto veloce E poi succede che Gigi D'Alessio Ti manda un messaggio Sì Allora in realtà Quest'anno c'è un Fabio Brescia in pieno ritmo Allora in realtà nasce diversamente Cioè nasce così C'è una canzone che Arisa canta a Sanremo Della quale io sono pazzo e innamorato Che potevi fare di più Canzone che non ha avuto secondo me il successo che meritava Anche radiofonicamente parlando Una sera Sentendo questa canzone La canticchio in napoletano E penso Ma sai che c'è? Proprio giusta Cerco la base su Youtube Nella tonalità di Arisa Quindi la canto un'ottava sotto Evidentemente Metto la base nelle casse Il telefonino poggiato nel porta oggetti Della porta a fianco E mentre guido Quindi seduto in macchina Con la cintura di sicurezza Senza il diaframma Senza la voce Insomma La butto via Così la canto tutta Pare che È diventata virale Su TikTok Tipo Due milioni di visualizzazioni In pochissimo tempo Mi chiama un produttore Giuseppe Michelino Che ringrazio e che saluto Che mi ha messo Tutta la sua arte e amicizia A disposizione E mi fa Ma perché non la incidiamo? Eh? Capi? C'è? Da un gioco Ok Capito? Allora Chiamo Gigi D'Alessio A quel punto Perché dico Se dobbiamo fare una roba Dico Gigi Guarda che Io te la mando Se tu mi dai il bene Palacet E lui mi manda Un messaggio Aspetta Io ve lo faccio sentire No te lo dico Ve lo faccio Allora Gigi D'Alessio Gigi D'Alessio No perché se no Può sembrare Capito? Invece io ve lo faccio Sentire Abbiamo le prove Allora Caro Gigi Mi sono permesso Di tradurre questa canzone In napoletano Non è la mia nottonalità E sto guidando Ci sono tante imperfezioni Ma c'ho la faccia tosta E te la mando lo stesso Un produttore Mi ha contattato Per inciderla Che cosa ne dici? Allora Avvicinare il microfono Aspetta che Ecco Questo secondo me È un mio capolavoro Devo dire Una dei capolavori Che ho scritto E taciaciata Pure napoletana è bella Bravo Bravo Fabio Bravo Sono orgoglioso E questo è stato L'incoraggiamento Poi Gli ho riscritto Quando l'avevamo Gli ho mandato La versione definitiva E dico La possiamo caricare Sugli store Puoi fare quello che vuoi Sei il padrone Con un bel cuore Con dei cuori blu Con dei cuori blu Gigi è sempre Attento a quello Che accade qui E ne hai fatto anche un video Sì Che esce domani In anteprima Esce domani su YouTube Ma ho voluto regalare L'anteprima Ce l'abbiamo prima noi L'una mattina Grazie Fabio per essere stato qui con me Grazie a voi Ma torna Noi abbiamo dei talk interessantissimi Ci sarò Ci sarò Di vederti presto E noi salutiamo Fabio Con questo splendido video E ci vediamo poi domani mattina L'una mattina Quindi puttivo fai chiù Puttivo fai chiù Puttivo fai chiù Ma la lingua napoletana E' una lingua Appunto Hai detto tutto Grazie Fabio per questo regalo Prego Confetti Max Stress Con te nel giorno più bello Confetti Max Stress punto it Centinaia e centinaia di provinsi 32 sono rimasti E infieguono il sogno Di avere la loro occasione Benvenuti alla prima puntata Di Dammi un'occasione Ed ecco i magnifici 5 Che sceglieranno i 10 Che continueranno questa avventura Con Marco Calone Nenzi Coppola Stefania Lai Susi Attanadio Enrico Feniano E poi c'è il mio amico di sempre Fabio Bressa PIG Radiofonico